ciao a tutti ragazzi e bentornati su pepe vacca collectibles con un nuovo video unboxing oggi sono qui con il movie masterpiece 604 di hot toys ovvero una versione di spiderman direttamente dal film no way home in black and gold suit ovviamente ho potuto recuperare la mia versione dal colosso dei nerd vi metto qui sotto in descrizione il link e quindi non perdiamo altro tempo ragazzi perché non vedo l'ora di scoprire questo spiderman e di aggiungerlo alla mia collezione cominciamo come al solito dalla scatola che presenta questo pattern lucido che come vedete purtroppo causa questo riflesso ma comunque la scatola è davvero meravigliosa ci tengo a farvi vedere questo logo visto che hot toys ce l'ha piazzato così prepotentemente davanti per farci sapere quanto spiderman post riceva un nuovo spararagnatele imbevuto di poteri arcani quindi come tutti sappiamo che per chi ha visto no way home stiamo parlando dei poteri del dr strange che possiamo vedere richiamati anche su questi due lati della scatola ma comunque non mi piace tantissimo questa patacca messa lì comunque al di là di questo ovviamente sulla parte bassa spiderman black and gold suit movie masterpiece 604 in scala 1 a 6 molto molto bella la scatola ragazzi sui fianchi ovviamente c'è questa rappresentazione sempre della magia arcana di strange con la scritta nel mezzo stessa cosa dall'altra parte mentre nella parte posteriore le solite avvertenze e raccomandazioni andiamo quindi ad aprire la confezione con un'apertura a fiammifero già da qui posso vedere un sacco di accessori e tutto molto molto bello andiamo a tirare fuori il nostro spiderman ok ed eccolo qui beh direi che già di primo ad un primo sguardo ovviamente gli spiderman di ottoys non deludono mai ragazzi mamma mia comunque andremo a vederlo meglio più nel dettaglio più tardi ora come al solito non farò altro che togliere tutti questi accessori che sono diversi dalla scatola e cominciamo bene ad analizzarli ed ecco qui tutti gli accessori fuori dalla scatola che come potete vedere sono diversi quindi cominciamo con l'analizzare la basetta che niente di particolare la classica basetta di forma esagonale fornita da ottoys per i personaggi marvel con il logo marvel studio spiderman no way home ed è divisa in due sezioni una parte più liscia che va a raffigurare una parte del logo del ragno in una colorazione dorata mentre il resto della basetta è satinata quindi è ruvida al tatto con questo pattern che poi andremo a ritrovare anche sulla tuta di spidey e che abbiamo anche visto sulla scatola poco fa quindi niente di particolare però comunque sempre molto molto ben fatta e sulla parte frontale ovviamente black and gold suit poi abbiamo classico stick per le pose dinamiche super flessibile ovviamente che si accompagna al supporto anch'esso da mettere sui fianchi del nostro spidey per permettere di fare le varie pose in volo poi veniamo alla ciccia quello che ci interessa di più di questi accessori che sono per l'appunto le ragnatele che vengono fornite sempre super ordinate super protette da parte di ottoys e questa cosa mi piace e sono molto flessibili quindi possono essere diciamo personalizzate nella forma a nostro piacimento ne abbiamo di diversi tipi ci sono anche queste e poi andremo a vedere quella che ci interessa di più che la novità di questo spider man per quanto riguarda la modalità di utilizzo di queste ragnatele in questa figure ottoys ci fornisce questo spara ragnatele che può appunto essere ancorato alle ragnatele in questo modo come potete vedere e poi applicato a questa tipologia di mano nella posizione appunto di spara ragnatele che come vedete ha la caratteristica di avere questo pezzo che può essere rimosso e sostituito da questo ci sono dei peg come vedete e si sostituiscono in modo tale appunto da poter collegare le ragnatele alla mano a proposito di mani appunto vengono fornite come potete vedere diverse coppie abbiamo due mani aperte destra e sinistra e vi faccio vedere il dettaglio di queste mani ovviamente in classico stile ottoys con dei dettagli incredibili di questa colorazione dorata che a contrasto con il nero secondo me è veramente spettacolare e guardate tutti i vari dettagli mini dettagli delle dita secondo me davvero uno spettacolo poi andiamo avanti abbiamo anche due pugni ovviamente e due mani come vi dicevo poco fa in posizione di spara ragnatele e poi abbiamo due mani differenti che vengono utilizzate per varie prese abbiamo questa per quanto riguarda la mano sinistra e questa invece con la possibilità di inserire probabilmente la ragnatela che vedremo poco cioè vedremo fa poco e quindi sono differenti in base alle posizioni che vorremmo dare al nostro spiderman per quanto riguarda la ragnatela abbiamo il classico diciamo spruzzo come vogliamo chiamarlo di ragnatela che abbiamo trovato anche negli altri spiderman abbiamo varie tipologie di occhi ovviamente tutte con il magnete quindi possiamo intercambiarle a nostro piacimento in modo abbastanza rapido e abbiamo quindi occhi chiusi leggermente più aperti leggermente più aperti e completamente spalancati veniamo adesso a la ragnatela che è quella che vi dicevo poco fa che è quella che viene donata al nostro peter dal dottor strange per poter diciamo catturare i nemici storici di spiderman in no way home anche questa è sempre ben realizzata con vari effetti lungo tutta la lunghezza da accompagnare poi ai vari effetti magici che possiamo vedere qui che hanno questa colorazione appunto sull'arancione è praticamente traslucida come vedete si può vedere attraverso e secondo me sono ben realizzati si sente molto la plastica ma tanto ragazzi è quello che è insomma qui posso vedere un magnete quindi probabilmente questa è quella che andrà sul petto del nostro spiderman e quindi poi andremo a vedere più nel dettaglio andiamo avanti con i pezzi forti qui abbiamo l'avambraccio che utilizza spiderman proprio per il lancio di quella ragnatela anche questo sempre ben realizzato colorazione oro ed è scolpito nei minimi dettagli in ogni sua parte davvero molto azzeccato e abbiamo poi la maschera che è in tessuto ragazzi non so se riuscite a vedere come sia possibile comunque modellarla la maschera che non può essere indossata ovviamente dalla nostra figure ma è fatta appunto per tenerla in mano e questa è la mano appunto che viene usata per poterla tenere poi si adesso non voglio forzare troppo la cosa ma se vogliamo posarlo in questo modo possiamo infilarla diciamo piegandola a dovere possiamo infilarla in questa mano e fargliela tenere in mano insomma anche questa super dettagliata guardate il pattern come va a distribuirsi su tutta la maschera ovviamente sempre priva di difetti in pieno stile Hot Toys quindi molto ben realizzata ultimo pezzo ma il più importante è questo meraviglioso head sculpt di Tom Holland stavolta Hot Toys si è superata ancora di più rispetto all'ultima versione del upgraded suit in cui c'è già una differenza per quanto riguarda la texture della pelle che sembra ancora più realistica di quello che avevamo visto ed è davvero un capolavoro secondo me ha queste parti dei capelli ovviamente leggermente mobili quindi sono leggermente distaccati dalla scultura degli altri capelli e direi somiglianza molto 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 vicina al nostro Tom e anche la scultura dei capelli e la colorazione devo dire che è un lavoro eccellente da parte di Hot Toys e questo head sculpt purtroppo mi metterà in crisi perché sarà veramente dura decidere se posare questo Spider-Man con questo head sculpt meraviglioso o con la classica maschera detto questo ragazzi adesso mettiamo da parte gli accessori e andiamo a vedere la nostra figure andiamo adesso ad esaminare l'action figure che ovviamente è uno Spider-Man e quindi ragazzi non delude mai già vederla tra le mie mani dà davvero un senso di realismo assoluto e la tuta è ovviamente di gomma anche abbastanza flessibile come per tutti gli altri Spider-Man si può quasi sentire appunto la muscolatura di Peter veramente impressionante e il pattern è di questo materiale diciamo satinato come vedete pieno di dettagli minuscoli ed è veramente eccezionale per quanto riguarda la pittura è realizzata in modo impeccabile ovviamente non ci sono sballature di nessun tipo e come potete vedere non è nemmeno davvero simmetrica quindi ogni particolare è stato curato nel minimo dettaglio vedete anche questa parte è differente i vari disegni all'interno della parte centrale insomma del busto e poi tutti i vari disegnini di cui parlavo prima che abbiamo visto sulla scatola sulla basetta e li ritroviamo ovviamente sulla tuta di Spidey questo costume è veramente secondo me meraviglioso quello utilizzato durante il primo incontro con Electro in No Way Home ed è secondo me sbalorditivo il passo in avanti che è riuscito a fare Hot Toys anche nella realizzazione degli Spider-Man ne ha fatti diversi e è stata capace sempre sempre di migliorarsi davvero incredibile anche la forma della testa mi sembra migliorata proporzionata al resto del corpo il corpo utilizzato dovrebbe essere un riadattamento di quello sempre di Hot Toys dell'upgraded suit quindi davvero una garanzia andiamo a vedere ovviamente le varie articolazioni che come possiamo vedere a testa si può girare come al solito piegare in alto e in basso poi qui come vi dicevo prima ragazzi ci sono gli occhi magnetici che possono essere rimossi anche abbastanza semplicemente guardate la cura nel dettaglio spero che il telefono faccia il suo dovere nella messa a fuoco il dettaglio di questa maschera ragazzi io lo so sarò ripetitivo vi chiedo scusa ma sono davvero impressionato positivamente sul lavoro fatto su questo Spider-Man comunque andiamo avanti allora abbiamo ovviamente per le articolazioni le braccia possono essere mosse ovviamente in tutte le direzioni abbiamo anche una butterfly joint qui a livello della spalla io ovviamente ragazzi come sapete non mi piace molto forzare le articolazioni quindi ci andrò molto cauto anche da questa parte ovviamente poi abbiamo la doppia piega anche del gomito che può superare i classici 90 gradi e ovviamente classica articolazione dei polsi articolazione anche per quanto riguarda il busto si può piegare in avanti indietro e ruotare stessa cosa ovviamente per il bacino anche qui doppia articolazione al ginocchio classica che ci permette di superare i 90 gradi gambe possono andare avanti indietro senza nessun problema e ovviamente stivale con articolazione del piede sia della caviglia che della punta del piede per le pose più particolari andiamo a vedere nel dettaglio anche la suola di queste scarpe che è particolarmente dettagliata e ben realizzata molto bene lo toys e vorrei soffermarmi anche su questi stivali che seguono alla perfezione la linea e la proporzione della gamba con anche qui la cura del dettaglio in questa sorta di ricamo che viene fatto alla base diciamo di quello che sarebbe una sorta di calzino tra virgolette ragazzi prendetele con le pinze quello che dico da questo punto di vista comunque tutto ottimamente realizzato anche questa parte molto ben visibile io non so se a voi rende l'idea insomma dal video ma vi assicuro che visto di persona ragazzi è veramente stupefacente il risultato finale di questo Spider-Man ovviamente abbiamo anche da questa parte sulla schiena il simbolo del ragno classico e la parte centrale anche qui il simbolo del ragno sulla parte frontale vi voglio mostrare una cosa l'effetto della magia arcana ovviamente come vi dicevo poco fa che con il magnete si può attaccare appunto sulla parte frontale del petto adesso vediamo se riesco in diretta a mostrarvi anche il montaggio di questo avambraccio che come vedete si toglie la mano va inserito con molta cautela l'avambraccio e poi si reinserisce la mano in questo modo scusate un attimo ok poi ovviamente a questo avambraccio può essere collegata la nostra ragnatela con i vari effetti magici del Doctor Strange quindi davvero un bellissimo pezzo secondo me vi mostro questa versione di Spider-Man con l'head scout di Tom Holland che come potete vedere fa una bellissima figura e come vi dicevo prima mi mette in grande crisi se esporlo in questo modo oppure con la maschera ed ecco il black and gold suit a confronto con Spider-Man classic suit che risulta essere come potete vedere leggermente più alto poi andremo a confrontarlo anche con la maschera indossata per vedere se effettivamente questo gap c'è ancora comunque due fantastiche versioni di Spider-Man secondo me anche questa classic è veramente meravigliosa e visti così ragazzi penso proprio che stavolta andrò per l'head scout di Tom Holland ma non è detto e rimango sempre molto indeciso di nuovo a confronto con la maschera indossata stavolta l'altezza comunque del classic suit rimane sempre maggiore ma proprio il corpo come possiamo vedere è proprio più massiccio rispetto a questo di Tom Holland eccoci giunti quindi alla conclusione del video ragazzi per me questo Spider-Man merita un 9,5 pieno e non mi sentirei di dare un voto più basso perché non riesco davvero a trovare un difetto spero che a voi sia piaciuto sia questo video che questa versione di Spider-Man tanto quanto è piaciuto a me e in caso contrario fatemelo sapere ovviamente qui sotto con un commento mettete mi piace al video se vi è piaciuto e non vedo l'ora di portarvi altri Hot Toys e altri unboxing altri di Spider-Man e vi assicuro che ce ne saranno detto questo ragazzi ci vediamo come al solito a un prossimo video ciao ragazzi a presto